buongiorno appuntato buongiorno dite e devo fare una denuncia prego mi trovavo in banca all'improvviso è andata una tazza nuda con la pistola e ci ha rapinato a tutti quanti e se ne è scappata adesso facciamo un bel identikit e lo mettiamo in tutte le stazioni identikit e la faccia vi faccio la neve la faccia e chi l'ha vista